in l'articolo il centro campista sono sebastian giovinco sono un trequartista e mi piace fare gol non studio mai come fare un gol mi viene distinto e basta mi accorgo solo quando ho palle dentro la rete da piccolo facevo il centrocampista Adesso mi piace fare gol, mi piace essere decisivo e finalizzare quello che di buono fa la squadra. Sono arrivato in Serie A perché non mi interessano i pareri degli altri e sono molto sicuro di me stesso. Il tiro perfetto è fatto di tre cose. Precisione, potenza e tenere il piede d'appoggio vicino alla palla.